Allora, Oscar, vuoi dirci cosa sta succedendo? Io questa cosa l'ho vista stamattina. Io proprio ci sono rimasto proprio di merda. Allora, Oscar, di cosa stai parlando? Ragazzi, silenzio! Guardate con i vostri occhi. Oh mio Dio, ma questo... Amity Blight, do you want to go out with me? Yes! Chiaro d'apposso! Fermi tutti! Chiaro d'apposso! Cosa ha scritto? E' il commento più epico che io abbia mai visto! Amity, I'm so glad my awesome girlfriend is okay. Me too. Oddio mio! Oddio mio mio! Oddio mio mio mio!